Il pianeta è in preda al caos Abbiamo sempre pensato che la vita aliena sarebbe arrivata dal cielo Ma è arrivata dalle profondità marine Da un portale interdimensionale sul fondo dell'oceano Pacifico Qualcosa laggiù ci aveva scoperti Pensavano che gli umani si sarebbero nascosti, arresi, che avrebbero fallito Non consideravano la nostra capacità di resistere Di rialzarci Non credevano che avremmo raccolto la sfida Piloti pronti alla connessione Andiamo a pescare Due piloti collegati a punte neuronale Pronti ad attivare gli hacker in Tre Due Uno Oggi sull'orlo dell'abisso Allo scadere del tempo Abbiamo scelto di credere l'uno nell'altro Oggi affrontiamo i mostri alle nostre porte Oggi noi scongiuriamo l'apocalisse Polizia 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 Grazie a tutti